Benvenuto a Cortina. Ciao e grazie. Guarda, l'anno scorso siamo rimasti tutti un pochino così per come hai perso quel quarto di finale con quello che poi dopo ha vinto il torneo, Giovanni Sosa aveva vinto il primo set, 6-4 se non ricordo male e beh, sei arrivato al tie-break del secondo prima che, insomma, è andata come è andata, è stato un peccato. È stata, diciamo, la prima volta qua a Cortina, non ero mai stato e fin dal primo turno ho avuto ottime sensazioni giocando subito un buonissimo tennis che mi mancava da un po' di settimana anche lì. Ho vinto una partita al secondo turno molto difficile annullando match point e poi sicuramente ho giocato un'ottima partita come dicevi con il brasiliano, ho girato sicuramente su pochi punti, però ho buone sensazioni, ho avuto buone sensazioni e quindi sono tornato qui fiducioso. E quindi noi speriamo che tu sia veramente uno dei protagonisti fino in fondo di questa settimana qui a Cortina, ovviamente. Speriamo. Beh, qualche anno fa hai fatto un risultato fortissimo, bellissimo, quando hai giocato a Roma nel 2015 vincendo il primo turno con Giraldo. Forse è il match più importante ancora della tua carriera? Sicuramente il match più importante e anche con le emozioni, sono state emozioni fortissime sul centrale, fuori talico da italiano, sicuramente penso un momento che non dimenticherò mai. Ancora ora ogni tanto, nei momenti non bellissimi vado a rivedermelo, diciamo, torno a sorriso. E quel giorno, io me lo ricordo il giorno dopo di quella vittoria, tu sei rimasto lì un bel po' di tempo a disposizione di mille bambini che, insomma, sono tutti stretti attorno a te per mille fotografie, mille autografi. Allora, noi abbiamo pensato quel bellissimo momento e te lo rifaremo vivere oggi qui a Cortina. Speriamo che quella sia parte di una settimana bellissima. Grazie Matteo e benvenuto ancora qui da noi. Grazie.